Buongiorno ben ritrovati prima pagina ci siamo in questo giovedì 4 di gennaio per vedere insieme Intanto le notizie principali fu le testate dei quotidiani regionali partendo dal Corriere dell'Umbria Gli assurdi saldi di inizio stagione scrive proprio il Corriere Domani via le svendite ma in realtà l'inverno deve ancora arrivare Riusciranno i commercianti a recuperare quanto perso sinora questo il Busillis che lancia proprio il quotidiano E poi le previsioni calcolano in Umbria un giro d'affari per 120 milioni ma spesa pro capita inferiore a quella nazionale Questo dunque per quanto riguarda la questione saldi Poi pronto soccorso sotto pressione l'influenza fa crescere di fatti gli accessi E si torna a parlare del caso legato all'inchiesta ANAS Pileri e Verdini fanno scena mute interrogati dal GP di Roma Non rispondono come detto Fabio Pileri e l'indagato Umbro della vicenda E poi la fotonotizia che riguarda un Umbro in corsa per gli Oscar della TV Parliamo del ternano Francesco Corazzi qui in foto proprio sul posto di lavoro In corsa come tecnico del suono per il prestigioso premio degli Emmy Awards negli USA A Foligno si parla di politica sul correre Elezioni, il centrosinistra rilancia le primarie Proposta di due partiti della coalizione Invece a Passignano, cronaca in primo piano Anziana muore in casa, indagano i carabinieri E' stata trovata dal figlio A Terni il nera potrà accogliere le cene dei defunti Via Libera del Comune Fissati, costi e anche le zone L'intervista invece del giorno per il correre al docente Roberto Luneia La chimica guida tutta la mia vita ricorda proprio Luneia Veniamo così anche alla nazione per quanto riguarda la prima pagina regionale La beffa Superbonus scrive il quotidiano L'incentivo ha riguardato solo il 4% delle abitazioni censite in Umbria Lavori soprattutto nelle case unifamiliari E rimane il rebus del credito Superbonus costato 4.500 euro a famiglia Ma solo 8.000 sono stati gli edifici ristrutturati Mistero invece sulla morte di un'ex infermiera Tragedia Passignano la vittima E Giulia Spini 79enne A dare l'allarme il figlio della donna Ed è stata quindi disposta l'autopsia Fotto la testata Vedete salari, sicurezza e sostenibilità Ecco le sfide della CISL Il sindacato affronta così il 2024 Per quanto riguarda invece la questione Covid Crolla il numero dei decessi per la pandemia E le cifre in questo inizio di nuovo anno Per la cronaca sempre dalla regione Espulso, rientro in Italia senza autorizzazione Arrestato un 37enne Città di Castello, Rotonda del Cassero C'è il via libera per il cantiere Per quanto riguarda invece Orvieto Furti nelle ville, spunta un drone abbandonato E forse è proprio dei ladri Ancora Cori, Sciarpe e Striscioni Per l'addio allo storico capo Ultras del Perugia Mimmo al Curi C'è stato l'ultimo saluto al capo dei tifosi bianco-rosso Mentre da Terni la cronaca Massacra di botte Moglie e figlio la sera di Natale L'uomo arrestato dalla polizia Dopo la richiesta di aiuto proprio del primo genito Veniamo così anche alle notizie In primo piano sul messaggero Risonanze gastro, cambia tutto Si parla dunque di sanità in primo piano Uno specialista può bloccare Le prescrizioni ritenute improprie per over 65 e over 45 Terni fa quadrato sui primariati Terzo polo il sindaco di Spoleto chiede di vedere le carte E ancora anche sul messaggero da Terni Picchia moglie e figlio Arrestato marito violento La donna delle costole rotte Salvati dalla volante Da Perugia ricatto a luci rosse Paga o mando le chat E con le escort A tua moglie Perugia professionista costretta Versale 3.000 euro Nel box a destra vedete si parla ancora Dei quartieri perugini Degrado Due quartieri alzano la voce Sono quelli di Monteluce e San Terminio Mentre da Perugia Sparito il busto in bronzo Dedicato a Don Bosco Collocato nell'ononima via Traversa di via Fiorenzo di Lorenzo A Perugia La fotonotizia riguarda il giallo di Passignano Trovata morta dal figlio Scattano le indagini È stata disposta l'autopsia per la donna Continui litigi Confermano i vicini Della signora Che è stata trovata senza vita A Narni invece il furto L'assessore Rubini Dichiara rubati i ricordi di una vita Se ne parla poi all'interno Mentre premiati Brunello e Federica Cucinelli Marito e moglie di fatti insegniti Della croce di Gerusalemme Per quanto riguarda L'imprenditore Umbro e la consorte Mentre la tradizione che si rinnova A San Teraclio Va in scena la notte della Befana Appuntamento domani dalle 21 Il largo Garibaldi E poi sotto la testata Le notizie di carattere sportivo Ternana Calcio Falletti verso l'addio La separazione è vicina Sempre più distanti le posizioni Tra società e fantasista Rosso Verde Carboni pronto a dire sì Alla Ternana di mezzo C'è anche Corrado Per quanto riguarda il calcio Mercato che impassa Tra serie B e serie C Come per il Perugia Stretta di fatti per avere subito L'attaccante Silla A distanza fino ad oggi Alla Vis Pesaro Al Curi invece l'addio commosso A Mimmo Pucciarini Lo storico capo Ultras del Perugia Venuto a mancare Proprio nei giorni scorsi Veniamo così dunque Anche agli approfondimenti All'interno dei quotidiani Notizie in primo piano Per quanto riguarda Proprio anche sotto Questo punto di vista Quelle che sono le inchieste Del Corriere dell'Umbria Si parla di infrastrutture Treni La sfida legata Alla Ferrovia Centrale Umbria E tanti cantieri Ancora da avviare Ferrovia Centrale Di fatti da completare Entro il 2026 A giorni il progetto Del raddoppio Orte Falconara A febbraio Stazione invece All'aeroporto Il bilancio di un anno Tracciato anche Dall'assessore Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche Con il rinnovo Del parco rotabile I locomotori Alstom Di fatti entrano A 200 km Orari Viene confermato Appunto Sul Corriere Dell'Umbria Si parla di strade Il nodino Aspetti Il finanziamento Del MEF Sull'AE78 La svolta storica Con il riutilizzo Della galleria Della Guinza Il progetto Dunque Potrebbe avere Una svolta Decisiva Trasporto pubblico Locale Si attende La maxigara I processi E la corte dei conti La procedura attesa Ha scatenato Scioperi E polemiche Negli ultimi mesi Per quanto riguarda Invece Un premobilità La società Sta superando La fase Prefallimentare E poi Per quanto concerne L'alta velocità Freccia E Medieturia Addio all'isolamento Questo Gli obiettivi Per quanto riguarda Anche Il trasporto Su ferro Legato All'alta velocità In Umbria E poi Si parla anche Di cammini e sentieri Oltre 15 interventi Sul Spoleto Norcia Per quanto Concerne Scusate Proprio Le infrastrutture Regionali In primo piano Invece Sulla Nazione Le sfide Della CISL Per il nuovo anno Salari più alti E sicurezza Sul lavoro Umbria Capitale Della sostenibilità Il sindacato Di via Campo di Marte Ha fatto il punto Sui temi caldi Da affrontare Per il 2024 Preoccupa La forte denatalità E la concentrazione Di morti bianche In rapporto Agli abitanti Ha dichiarato Il segretario Generale Della CISL Angelo Manzotti Qui in foto Assieme ai segretari Confederali Simona Garofalo Gianluca Giorgi Riccardo Marcelli Rispetto al centro nord I nostri lavoratori Guadagnano 3.800 euro In meno l'anno E' stato rimarcato Altro tema decisivo Anche in vista Delle elezioni regionali E in alcuni comuni E' quello Della sanità Questo deriva Dunque Dall'assemblea Di inizio anno Della CISL Opportunità per i giovani Come candidarsi Per quanto riguarda Il servizio Civile universale Che cerca Nuove figure E poi Sempre dalla nazione Quanto ci è costato Il super bonus Un peso da 4.500 euro A famiglia Umbria In media nazionale Ma sono stati Ristrutturati Soltanto 8.000 edifici Su un totale Di 200.000 Mette in risalto Proprio il quotidiano Con tanto Di grafico Che espone I numeri Del bonus 110 Nel cuore verde D'Italia Modificare il luogo Di nascita Questa è la proposta Per quanto riguarda I neonati Registrati nel comune Di residenza Portata avanti Dal deputato umbro della Lega Riccardo Augusto Marchetti In primo piano Invece sul messaggero Le sfide della salute Gastroscopie Risonanze Rivoluzione Prescrizioni Lo specialista Può bloccarle Nuove linee guida Della regione Contro esami inutili Liste d'attesa Per over 45 Over 65 Cambia tutto Ecco i paletti Per i medici Di famiglia In caso di rifiuto Della prestazione Lo specialista Dovrà motivare Il no All'esame Endoscopia e radiologia Scelte perché in sofferenza Sul fronte delle attese E poi la statistica Il 25% dei sanitari Vuole lasciare il pubblico Questo il quadro Delineato dalla federazione Dei medici internisti Ospedalieri L'Umbra soffre per sanità E livello più baffo Di stipendi e salari Sempre dall'analisi Della CISL regionale Si parla anche Della contrattazione Di secondo livello Per recuperare il divario Sulle retribuzioni Anche questo è stato Rimarcato durante L'incontro avvenuto Ieri a Perugia E poi come cambia La protezione civile In caso di terremoti Alluvioni La super squadra Dell'emergenza Istituito Fondo regionale Per potenziare Il sistema per il soccorso Nella prima fase Il disegno di legge Ora è da sottoporre A fase partecipativa In assemblea Dei soggetti portatori Di interesse Nel dispositivo Viene riconosciuto Per la prima volta Il ruolo del volontario Prevista anche una fase Preventiva Al centro di Foligno Il ruolo del coordinamento Si parla anche Della ricostruzione Aumento del contributo Per gli immobili Sottoposti a tutela Per quanto concerne Le città I paesi Del post sisma Con Il commissario Castelli A cercare appunto Di svoltare Anche sotto questo Punto di vista E parlando proprio Di svolta Sotto i riflettori Sempre per la sanità Il covid Che non fa più paura Scrive la nazione Crolla di fatti Il numero di vittime Nel 2023 I decessi Causati dal virus Sono scesi A quota 170 A meno dell'80% Dall'inizio della pandemia Ovvero marzo 2020 Il coronavirus Ha ucciso 2520 persone Ricorda proprio La nazione Con tanto Anche qui Di grafico Per quanto riguarda Le vittime Del covid In Umbria Dal 2020 Fino al 2023 Nelle persone Molto anziane In quelle con malattie Croniche del fegato Del cuore del rena Allora il virus Resta patologico Viene sottolineato Da Gli esperti Obbligo di regarsi Dagli specialisti Altro colpo Alla fanità pubblica Questo per quanto riguarda Il nodo Delle liste Di attesa Poi si parla anche Di altre questioni Le nuove luci Al curi Costate 105 mila euro Per quanto riguarda L'impianto perugino Mentre per San Marco Ponte Doddi Sono in corso Verifica lungo la strada E in via Braceschi E' stata bandita La gara Per quanto riguarda I quartieri Che cambiano A Perugia Si torna a parlare Però anche sul Corriere Della questione Sanitaria Influenza Presi d'assalto Il primario Del pronto soccorso Perugino Il professor Groff Dichiara di fatti Abbiamo in media 50 accessi In più al giorno Tanti pazienti Soprattutto anziani Arrivano in ospedale Con polmoniti Causate dalla febbre O dal covid E poi Nuovi atti vandalici Invece a Perugia Alla sede Di Fratelli d'Italia Sul posto La notte scorsa Intervenuti Gli agenti Della Digos E della Questura A dicembre Avevano spaccato Una finestra E poi Per quanto riguarda Ancora La cronaca In questo caso Dal messaggero Il virgolettato Paga o mando A tua moglie I messaggi con l'escort Un ricatto A luci rosse Professionista Costretta a sborsare Oltre 3.000 euro Ha raccontato Alla polizia Di aver ricevuto Anche minacce Di morte Ai suoi familiari Da quella denuncia Ha scoperto poi Un giro di persone Ricattate da un gruppo Di gestori Di ragazze Contattate online Sequestrati così Computer e tablet Per ricostruire Tutta la struttura Della presunta Organizzazione Questo mentre Ad assisi Sono stati controlli Antifurto Fuori dalle chiese Con pattuglioni Degli agenti Del commissariato Nelle frazioni Di Petrignano Santa Maria degli Angeli Palazzo e Castelnuovo Tutte nell'assisiate Ancora Sparito Il busto Che ricorda Don Bosco A Perugia Sconcerto Da parte dei Salesiani Il monumento Era stato inaugurato Nel 1966 Ricorda proprio Il messaggero Mentre a Fossato di Vico Girano contro i coltelli Nei guai Due ventenni Che sono stati Fermati Dai carabinieri Andiamo a Passignano Sempre dal messaggero Dove anche qui La cronaca In primo piano Trovata morta dal figlio Scattano le indagini La vittima è Giulia Spinex Infermiera 75enne Disposta così L'autopsia I vicini Continui litigi Dentro casa Hanno ricostruito Per quanto riguarda Quanto accadeva Prima appunto Del decesso Della donna Da città di Castello Invece Denunciate le ladri Della lavanderia I carabinieri Hanno individuato E denunciato Due ladri Che avevano rubato Proprio in una lavanderia Tifernate A Marciano Lavori per sport e strade Con interventi Da 1.400.000 euro Stanziati Per il progetto Proprio di rigenerazione Degli impianti sportivi Città di Castello Per Burri Un anno da record Scrive sempre il messaggero Oltre 25.000 visitatori Tra Palazzo Albizzini E gli ex Seccatoi Del tabacco Per quanto riguarda Appunto L'arte contemporanea Tifernate E i suoi visitatori Santa Maria degli Angeli Ecco il programma Delle serate in taverna Per quanto riguarda Il piatto Di Sant'Antonio 2024 Da Gubbio Invece la Fondazione Perugia Dona un ecocardiografo All'ospedale di Branca Con uno stanziamento Di 20.000 euro Veniamo così ancora Sempre di più Dentro i territori Dalla nazione Assisi Invasa Dai turisti Controlli straordinari Per garantire sicurezza La questura intensifica I servizi Anche per l'ultimo scorcio Di festività 126 persone Identificate E 50 veicoli Sottoposti A verifica E poi A Todi Intanto Riccardo Cucchi Presenta il suo Ultimo libro Un alto calcio Ancora possibile Appuntamento oggi Al museo Pinacoteca Per il noto giornalista Storica A voce di Radio Rai Da Bastia Umbra Vittime di intimidazioni Di risarcimenti Per la legalità Come saranno investiti I 22.000 euro Per il fondo legalità Per i giovani appunte Per il bene comune Andiamo a Gubbio Festa dei Ceri Cresce la febbre L'organizzazione È già in moto Scrive proprio la nazione Come da tradizione a gennaio Le famiglie leggono I capodieci Poi sarà il momento Dei tradizionali Veglioni Da fossata Anche qui vedete Per la cronaca Giovane trovato Con un coltello Da 20 centimetri Controlle raffiche Denunce Dei carabinieri Da non c'era Umbra Concorso letterario Su Fulvio Sbarretti Uno dei tre martiri Di Fiesole Giustiziato Perché aiutava I partigiani Un fatto accaduto 80 anni fa Oggi un concorso letterario Lo ricorda Ancora da Gubbio Il comune assuma Tempo indeterminato Previsti anche contratti Da sei mesi Per tre operai Ci sono i bandi Mentre da Gualdo Tadino In scena il musical Dedicato al Beato Angelo Presentato ieri In sala Consigliare Ali D'Angelo Curato da Andrei Fiorentini Lorenzo Evangelisti E Valentina Notari Per quanto riguarda Invece Città di Castello Sempre della Nazione Adesso il cassero Cambia strada Un semaforo Prima della rotonda Dalla prossima settimana Gli interventi Sulla viabilità Lungo le mura Spostato il pozzetto Che bloccava Il cantiere Qui proprio il rendering Della nuova Rotonda Tifernate All'istituto Tiberino Ci sono nove posti Letto in più Sul Corriere dell'Umbria Si potranno accogliere 120 pazienti Giancarlo Martini Nuovo direttore Sanitario Per quanto riguarda L'istituto clinico Tiberino Di Umbertide Polo d'eccellenza Per la riabilitazione In Umbria Città futura Per il confronto Con i giovani La politica In primo piano Sul Corriere a Gubbio L'associazione Incontrato in particolare Fuori sede Ascoltando proposte Ide per rendere Più vivibile Il territorio I coordinatori Jacopo Cicce Giorgia Gaggiotti Hanno illustrato Di fatti Le finalità Dell'associazione Si è parlato anche Di occasioni di lavoro Ma anche di viabilità E infrastrutture Questo mentre L'oratore Don Bosco Ma in scena De Shosen È stata proiettata La prima serie televisiva Di fatti Sulla vita Di Gesù Mentre Per la cronaca Veicoli in sosta selvaggio Automobilisti Intrappolati E quanto accaduto Nel parcheggio Nei pressi Delle case Popolari Nella giornata di ieri Situazione sbloccata Grazie all'intervento Della polizia locale Sempre sul Corriere Ricordata anche qui Il musical Sul Santo Patrono Ali d'Angelo In scena Al Don Bosco Il 15, 19, 20 e 21 Gennaio L'opera rientra Nei festeggiamenti Per i 700 anni Della morte Del beato Angelo A Morano Invece Incidente Sulla provinciale 444 Ferita Una donna Quindi Andando di nuovo Sulla nazione Per la pagina Di Foligno La coalizione Deve restare unita C'è la politica In primo piano Foligno In comune Placa gli animi Dopo la doppia Bocciatura Del candidato PD Da parte dei 5 Stelle I civici Fanno appello Alla responsabilità Density Festival Risorse all'osso Quali sono i criteri Del bando Questo Viene rimarcato Proprio Dall'associazione E poi Per quanto riguarda Spoleto Uslo 2 Città senza rappresentanze Fuoco incrociato sul sindaco Andra assisti Fuori dal consiglio Della conferenza Dei primi cittadini Del territorio Nell'azienda Sanitaria Mentre il comune Cerca un partner Per l'ufficio tributi Affidamento triunale Con possibilità Di rinnovo Per quanto Concerne La gestione Della Tari Rifacimento Del palatenda Nulla è perduto Ripresenteremo Tutta la documentazione Primo bando Di fatto deserto Per un errore materiale Nella consegna Delle carte Per quanto riguarda Il palazzetto Dello sport Spoletino Andiamo a Terni Sul messaggero Con la cronaca Violento Rompe le costole Alla moglie Coltello contro il figlio E' stato arrestato Per terrorizzare la donna Il marito usava Anche pistole Scacciacani Ritrovate in casa A dare l'allarme Uno dei fratelli presenti In passato L'uomo Era già stato Denunciato La vittima sperava In un cambiamento Per questo aveva Ritirato le accuse Dopo le prime violenze Mette in risalto Proprio il messaggero Furti e raffiche Intanto a capodanno Presa la banda Delle croate Il caso Che ha fatto Anche Ha riscosso Anche timori A Terni Per l'ondata di furti E' bastato Che uscissi di casa Per un'ora Per perdere Ricordi più cari Di una vita La testimonianza Dell'assessore Al comune di Nanni Giovanni Rubini Che racconta Denunciare sempre E controllo sociale Poi dal Corriere Si parla Di un ternano Che sogna L'Oscar Della TV Parliamo di Francesco Corazza Autentico mago del suono Così lo disegni Il Corriere Candidato negli Stati Uniti Per conquistare Il prestigioso Emmy Award Inizi come fonico Di presa diretta Ora è in lizza Per il film The Sound of 007 Sulla saga Di James Bond Proprio Il classe 1990 Nato e cresciuto A Borgo Rivo Francesco Corazzi Nuova gestione Intanto riapre Uno storico bar Di via Oberdan Grazie al 26enne Davide Tecu Che riprende in mano La Fenice Il locale Che aveva chiuso I battenti Alcuni mesi fa A Narni Sempre dal Corriere Rifiuti nei boschi E lungo il lago Da Caprila La strada Flamine Laia Scoperte di scariche abusive Con taniche Eternit E frigoriferi E rifiuti abbandonati Proprio tra la vegetazione E poi Per quanto riguarda Orvieto Più residenti E 130 case all'asta Il piano del comune Per le lottizzazioni Del fanello Del fanello E ciconia E del borgo Allo scalo Interventi anche Sulle opere Di urbanizzazione Investimenti Per attrarre Nuovi abitanti Sulla rupe Ha dichiarato L'assessore Al bilancio Di Orvieto Pizzo E poi Sempre da Orvieto Sulla nazione Anche un drone Alleato dei ladri Case sorvegliate Prima dei furti L'apparecchio è caduto Di fatti Nella zona del tamburino E nessuno lo ha reclamato E scattano le indagini Per capire Proprio di chi fosse Questo drone Sospetto In zona tamburino Ad Orvieto Questo mentre Il sindaco Di Orvieto Roberta Tardani E nel consiglio Della conferenza Della USL 2 Lo ricorda Proprio anche qui La nazione E possiamo Passare allo sport Dal messaggero Ternana Sarebbi in primo piano Falletti Di fatti Prepara le valigie La separazione Con i rossoverdi Appare ogni giorno Sempre più vicina Per il fantasista Uruguagio Gaston Pereiro E Ziga Repas I nomi Per sostituire Proprio Il numero 10 Delle fere Intanto Per quanto riguarda Il piano bitattico Spazza le due punte Favilli E Raimondo Che potrebbero essere La coppia Titolare Per quanto riguarda Le prossime partite Della Ternana Intanto Franco Carboni Sarebbe pronto a dire sì Proprio alla Ternana Liberando così La gestione Di Niccolò Corrado L'intervista invece Cambiando disciplina E a Francesco Tiberi Consigliere direttore tecnico Del circolo Scherma Terni Orgogliosi Vogliamo crescere Dichiarà Tiberi Proprio A il messaggero Passando invece Al correre dell'Umbria Nell'addio A Mimmo Il grande capo Per quanto riguarda La tifoseria Del Grifo In 2000 Il Curi Davanti alla Nord Per rendere omaggio Al numero uno Storico Degli Ultras Biancorossi Applausi e silenzi Perugia Ha così salutato Pucciarini Cordoglio Anche dai tifosi Di Arezzo E Terni Per quanto riguarda Mimmo Pucciarini Con la gigantografia Che campeggiava Ieri Nella Nord Sciarpata di tutti i tifosi Biancorossi Attaccante del Monterosi Autore di cinque gol In questa stagione Corsinelli Laterale destro Rosso blu Sempre più vicino All'Arezzo Con Indiene Giovannini Pronti all'acquisto Dell'esterno di fascia Del team Cubino E caccia anche Al centrocampista Mentre Bulevardi Portanova Restano in lista Di sbarco Scrive sempre Il Corriere In Serie D Silvano Fiorucci Vota per l'Orvietana Sono sicuro Che si salverà Dichiara L'ex tecnico Biancorosso Che poi fa le carte Proprio alle altre Umbre Della Serie D Il Trestina Pocentari Playoff Il Borgo Ovvero il Sansepolcro Punti Sull'entusiasmo Ha dichiarato Fiorucci E poi In campo Stasera invece Per il volley Il grande volley La Superlega Anzi per la Coppa Italia Quarti di finale All'evento Il Trental Palabarton Sir Perugia Che riceve Modena Sfida secca Dunque Chi passa Chi vince Va alle Final Four Per quanto Concerne la Susa Vim Con il centrale russo Che chiama I tifosi Al Palabarton Dichiara E' stato emozionante Rientrare dopo l'infortuno L'obiettivo Ora Dice proprio Russo Sono le Final Four Di Coppa Italia Ci serve L'aiuto Del pubblico Per l'appunto Loro mortoforti Imbattute Nella fase break Sottolinea proprio Russo Su Modena Lorenzetti Dovrebbe Schierare Per quanto riguarda Il sestetto iniziale Herrera titolare E il duo Flavio Sole Nello starting Iniziale Per quanto Concerne appunto La formazione Della Sir Perugia Che avrà Come sempre Giannelli E Semeniuk Come Altri Giocatori Nello starting Nello starting SIX Assieme a Plotnischi E a Libero Colaci Per l'appunto Questo dunque Per quanto riguarda Anche lo sport Nel nostro appuntamento Con prima pagina Ci fermiamo qui Pubblicità E poi torniamo Per iniziare TG Mattino Restate con noi